Ciao a tutti, in questi giorni si è concluso quello che è un concorso fotografico molto prestigioso che è l'IPA, l'Handman International Photography Award che ha annunciato da pochissimi giorni il suo vincitore tale fotografo malesiano Edwin Ong-Uiki spero di aver pronunciato giusto che ha vinto il primo premio di 120.000 dollari mica poco eh per una foto fatta in Vietnam il cui tema è Speranza quello dettato da quest'anno dal concorso in cui si dice che questa foto documenta un momento molto intenso umanitario ed è e rappresenta una madre vietnamita con disordini di apprendimento comunque che comunque non l'hanno fermata dal portare speranza e evocare un senso di maternità per i propri figli ora, la foto che comunque state vedendo è ovviamente assolutamente molto molto bella con una post-produzione decisamente incisiva che stacca veramente in una maniera impressionante i soggetti in questo caso dal dal fondo ora, piccolo problema qualcuno poco tempo dopo ha pubblicato una specie di foto del backstage di come è stata tirata fuori questa fotografia e qui vedete appunto questa foto incriminata apriti cielo polemiche su polemiche ne sto leggendo di tutti i colori perché? perché il backstage fa vedere che in realtà questa foto non è così romanticamente presa e rubata come l'immaginario collettivo vorrebbe ma in realtà è un po' usato e oltre ad essere un po' usato è un po' usato fatto per una collettività di fotografi la cosa assolutamente peggiore che esista io allora volevo spendere due parole a riguardo dunque fermo restando una cosa io odio non amo i gruppi di fotografi che vanno in giro a fare foto alla singola modella o al singolo soggetto è una cosa che trovo veramente inutile veramente inutile perché già una persona fa fatica a gestire un'altra persona da fotografare figuriamoci magari 5, 6, 10 fotografi che fanno la stessa cosa questa è una cosa che io veramente reputo assolutamente inutile secondo una cosa invece moralmente discutibile è che si vada in zone che magari non sono particolarmente ricche a fare foto soprattutto in gruppo oddio chiariamo se lo si fa con discrezione da singoli è ovvio che è una forma di documentarismo e ci sta ci mancherebbe ma andare in massa a far foto ai poveri e alle baracche questo è veramente secondo me biasimabile ok fermo restando un altro punto che comunque noi non sappiamo precisamente dove erano in che zona se effettivamente erano in una zona povera o semplicemente come ce ne sono anche in Italia delle zone non cittadine magari un pochino più rurali sta di fatto che questa foto di backstage ha scatenato l'indignazione di parecchi fotografi di parecchie persone le direttive comunque del concorso non parlavano di foto reportage non erano molto chiare o meglio davano ampio spazio alla creatività dei singoli sta di fatto che ci sono state comunque delle precisazioni cioè la donna in questione non era una modella ok cioè la cosa immorale sarebbe stata prendere una persona normale conciarla male piazzargli in mano dei bambini e farla interpretare una parte ok questo sarebbe stato assolutamente immorale la realtà è che questa era veramente una donna come è stata descritta nella didascalia che casualmente passava in mezzo a fianco ad un gruppo di fotografi più o meno amatori professionisti insomma se voi andate a vedere la pagina del fotografo che ha vinto non è proprio voglio dire uno alle prime armi è comunque un fotografo abbastanza bravo ci mancherebbe questa donna è passata lì di fianco e stranamente incredibile ma vero qualcuno le ha chiesto di fare una foto ora voi andate in giro e fate le foto a tradimento cioè andate riuscite a prendere il volto di una persona magari anche abbastanza da vicino per riuscire anche ad avere un bello sfoccato come quello senza dover chiedere il permesso a me non capita nel senso che comunque le persone si irritano soprattutto magari se ti trovi in un altro ambiente in un'altra cultura dove magari non puoi andare lì ad aggredire una persona con la macchina fotografica quindi secondo me non ha fatto niente di particolare cioè ha chiesto per favore possiamo farti una foto e lei ha consentito e probabilmente si è anche seduta per fare appunto questa foto cosa succede quando sei in gruppo che nel momento in cui uno trova un buon punto da fotografare o trova una persona interessante da fotografare in massa si spostano tutti tutti si spostano ed è ovvio che è quello che è successo qui quindi da un fotografo che probabilmente ha chiesto posso farti una foto e questa probabilmente anzi è molto più probabile che gli abbia fatto vedere la macchina fotografica gesticolando e lei abbia detto sì va bene abbia detto magari soltanto accenni perché magari insomma la lingua vietnamita malesia magari non parla la stessa lingua ok e qui il gruppo si è ritrovato a fare tutte queste foto il fotografo in questione poi cosa ha fatto ha scoperto l'uovo di colombo ha semplicemente detto prendo questa fotografia che non è male e la mando a un concorso la fotografia è piaciuta e ha vinto il primo premio quindi io non capisco sinceramente questa questa grandissima polemica che si sta scatenando di fronte a una fotografia che probabilmente è come mille altre fotografie ora non puoi chiedere magari di posare a un animale a una tigra un leone a un elefante però puoi provare a fotografare in mille altri modi e quindi ecco che non è la fotografia come una fotografia che vince un premio del genere nella nostra fantasia comune vuole che ne so vuole che il fotografo sia lì per motivi umanitari e che in qualche modo riesca a cogliere l'essenza no no comunque un minimo si costruisce la fotografia per tirar fuori qualcosa di buono di comunicativo comunque bisogna starci un po' dietro qui è stato soltanto chiesto alla donna se si poteva fare una foto lei ha consentito se si è seduta la cosa che probabilmente ha indignato di più è il fatto che ci siano state intorno mille persone ma andare a fare foto in giro non vuol dire soltanto essere soli cioè non è che la fotografia buona salta fuori solo se sei solo e non se sei in compagnia di una due tre cinque dieci persone qui le persone erano i fotografi erano mi conto adesso uno due tre quattro cinque sei cinque 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 circa una decina di fotografi più o meno che erano intorno a questa persona a fotografarla che ha consentito tutto sommato cosa le costava farsi fare qualche foto stop chiusa lì quindi onestamente io trovo questa polemica abbastanza non dico sterile forse forse l'unica l'unica nota che si potrebbe su cui si potrebbe mettere l'accento è il fatto che si è rovinata la poesia si è rovinata la poesia di una di una fotografia che si pensava fosse stata colta in chissà chissà quale situazione strana o o idealmente umanitaria effettivamente no era una donna che stava passando con il suo bambino a fianco di fotografi e loro le hanno fatto la foto diciamocelo mccary quando ha fatto la foto alla bambina afghana era alla fermata del bus cioè se non ricordo male lui dice che la bambina si è girata e lui ha fatto la foto magari le ha chiesto anche di girarsi un paio di volte magari l'ha fatta tre volte abbiamo un sacco di casi in cui una bella fotografia è semplicemente il risultato di una serie di fotografie che poi alla fine sono sono state mediocre e quell'unica è venuta fuori ma lo stesso ma lo stesso voglio dire grandi fotografi ma ma anche Cartier-Bresson ha avuto una serie di fotografie che erano inutili che erano brutte perché non è che ti vengono bene tutte per forza è buona la prima assolutamente quindi io trovo che nella fotografia del 2000 il fatto di ritrovarsi magari in gruppo a fotografare perché col digital ormai fai mille fotografie una volta non ti riunivi in gruppo a fare fotografie una volta non facevi viaggi fotografici adesso si quindi questi erano in un viaggio fotografico avranno pagato magari boh non so 1000 2000 3000 dollari per farsi un viaggio Malesia Vietnam non è che sia proprio come dire dall'Italia andare in Inghilterra non è che ti fai un viaggio così impossibile e sei riuscito a tirar fuori una fotografia chiedendo semplicemente a una persona di fotografarla amene ci hai messo una didascalia ad effetto e probabilmente questa donna aveva dei disturbi perché si vedevano magari gli chiesto anche una persona del posto ma questa donna qui questa donna ha dei problemi quindi ci costruisci attorno una situazione ed ecco che la fotografia buona viene fuori ma ripeto e ribadisco per l'ultima volta non trovo che ci sia niente di particolarmente scandaloso o meglio niente di così imprevedibile il video si conclude qui e vi ricordo di come al solito di iscrivervi al canale attivare la campanella lo dico velocemente così ricevete tutti gli aggiornamenti e ci vediamo alla prossima ciao a tutti